Buongiorno, generali e comandanti, dal vostro Harald dei Reami Mortali. Oggi andiamo a proseguire la nostra avventura per la città di Sigmar con Hallowart, la città dedita alle arti arcane e alla magia, la città radiosa, e le cose da dire sono veramente molte, quindi dritti, in medias res, extabrupto, iniziamo con le regole subito, e un'armata di Hallowart deve provenire da Akshi se scegliamo un reame di provenienza. Sintonizzazione Arcana, ogni volta che un'unità di Hallowart subisce gli effetti di un Incantesimo o di un Endless Spell, puoi tirare un dado. Con 5 o più, quell'incantesimo non ha effetto su quell'unità. Attenzione, puoi tirare un dado, non devi tirare un dado, tira un dado, quindi non dobbiamo tirarlo in caso in cui diamo un bonus alle nostre unità con i nostri stessi incantesimi, quindi non è un bonus malus, è proprio un bonus a nostra scelta, a nostra discrezione. Maghi della Corte del Fuoco Bianco, le unità con keyword Mago di Hallowart, possono lanciare un Incantesimo Extra in ogni tua fase degli eroi. Vediamo che qui abbiamo la tendenza a spingere verso la magia pesante e continuerà su questa strada, vedrete, è veramente gustosa. Abilità di comando, puoi usare questa abilità di comando una volta per turno. è stata faccata questa abilità di comando, state sempre attenti quando giocate di dare un occhio anche alle facc e alle errata relative al tomo che trovate su Warhammer Community, perché possono esserci delle correzioni o delle specifiche modifiche di qualunque abilità o abilità di comando in questo caso. Scegli un Mago Hallowart, eroe, e tira un dato. Quel mago soffre un numero di ferite mortali pari al risultato, ma fino alla tua prossima fase degli eroi, aggiungi il numero di ferite mortali ricevute non negate al lancio di Incantesimi dei Maghi Hallowart, anche non eroi quindi, mentre si trovano a 12 pollici da quel mago. Questo è pazzesco, pazzesco. Possiamo dare una bolla di bonus di minimo più uno, ma che potrebbe arrivare anche a più sei, più sei, al lancio di tutti i nostri maghi, se li teniamo vicini naturalmente. Cioè, possiamo competere tranquillamente con Nagash, tiriamo gli schiaffi a Lord Kroak e a Cinch, così, cioè, anzi, anzi, secondo me, arriva a essere anche superiore ad alcuni di questi che ho citato. Da notare che chi usa il punto comando deve essere eroe-mago, ma il bonus lo usano anche i maghi non-eroi. L'ideale sarebbe farlo usare da un mago sull'Uminarch di Aish, che è il carrozzone della magia, che poi vedremo, che, volendo, può negare le ferite mortali al sei più. In caso facciamo un numero troppo alto e non riteniamo necessario subire tutte quelle mortali per avere un bonus così spropositato, magari il nostro avversario non ha maghi con cui counterarci, è inutile dare un bonus di sei più per il lancio di un incantesimo. Ecco, con Luminarch di Aish possiamo cercare di negare un po' di ferite, magari anche tirando un dado alla volta, e così ci regoliamo, diciamo, facciamo sei più, ne neghiamo una, due, tre, a seconda di quello che tiriamo, a seconda di quello che ci sentiamo. Ecco. E tra l'altro il Luminarch ha abbastanza ferite da supportare, da supportare due turni di questa abilità di comando tranquillamente, e anche una basetta più larga in modo da poter influenzare più unità, rispetto a un maghino più piccolo da sei o cinque ferite. Tratti di comando, iniziamo con i tratti di comando, veterano della crociata splendente, non effettuare test di shock per le unità interamente entro 18 pollici dal generale. Iniziamo alla grande proprio, pensavo che fosse tutto incentrato sulla magia, invece abbiamo anche qualcosa di interessante a livello di tratti. Guardiano della fiamma, all'inizio della tua fase degli eroi, tira un dado al 4+, ricevi un punto comando, sempre bello, se mettiamo un generale con meno di sei ferite e di fianco il suo aiutante abbiamo due effetti uguali, cioè tiriamo due dadi al 4+, riceviamo un punto comando per ognuno. Temuto, cacciatore di incantesimi, se questo generale è mago, aggiungi tre ai suoi tentativi di disperdere endless spells. Se non è mago, puoi tentare di disperdere un endless spell nella tua fase degli eroi. Più situazionale, secondo me non regge per niente il confronto con gli altri due, non usatelo, a meno che sappiate per certo che il vostro avversario sia specializzato negli endless spells, ma anche in quel caso, di maghi comunque ne avrete, quindi non lo so, non mi piace. Gli artefatti, Prisma di Agloraxi, sottrai uno dai tiri per colpire con armi da tiro che bersagliano il portatore, se un portatore con meno di otto ferite non mostro, beneficerà anche di Lookout Sur, quindi arriviamo a meno due per colpirlo, se si trova entro tre pollici da un'unità amica con almeno tre modelli. Spallacce di Fiamme Viventi, visivamente bellissimo quest'artefatto, Spallacce di Fiamme Viventi, alla fine della fase di combattimento tira un dado per ogni unità entro tre pollici, con quattro più l'unità subisce di tre ferite mortali, ci sta per un combattente, se abbiamo nella nostra armata un eroe che vogliamo mandare in mischia, va bene. Libro del Fuoco Bianco, se il portatore è un mago conosce tutti gli incantesimi di Hallowarp, che sono sei, tra parentesi. Se non è mago avete sbagliato qualcosa, perché non è il caso di darlo a un non mago, ma oltre a questo conosce Rebbe, se non fosse mago, un incantesimo e può lanciarlo una volta nella vostra fase degli eroi, ma non prende la keyword mago, quindi non beneficerà del bonus dell'abilità di comando, ergo datelo a un mago, semplicemente. Incantesimi, appunto, come è già predetto, vista la dedizione di Hallowarp alla magia, ci sta che gli incantesimi siano sei e non tre. Inoltre ogni mago ne può conoscere due e non uno, e vi ricordo che ogni mago ne può lanciare uno in più. Diciamo che questa è proprio una strada bella spianata verso questa direzione. Fuoco Selvaggio, lancio al 6, scegli un'unità nemica visibile entro 18 pollici, quell'unità soffre di 3 ferite mortali, poi tira un dado per ogni altra unità nemica entro 6 pollici, con 4 o più, quell'unità subisce di 3 ferite mortali. Bello da lanciare su un esercito, che ha bisogno di tenere molto vicine le sue unità per eventuali buff o altro, e quindi con questo gli diamo una bella possibilità di dare molto fastidio. ferite roventi, lancio di 6, un'unità amica visibile entro 18 pollici, sana di 6 ferite. Oddio, qui intravedo già una bellissima combinazione, una sinergia interessante con l'abilità di comando. torna il luminarca, quindi con il mago, ovviamente per farlo eroe, usa, che usa l'abilità di comando per dare il bonus al lancio di incantesimo, e poi si cura pure, fantastico. Ciclone elementale, lancio di 6, scegli un'unità visibile nemica, a 12 pollici, tira un dado per ogni modello entro 12 pollici dal lanciatore. Con un risultato di 4 o più, l'unità subisce una ferita mortale, forte ma molto rischioso, da usare con un mago da mischia, o da un'unità mago magari, oppure ancora da un mago con il bel un vortex. Marchio protettivo viene lanciato al 6, scegli un'unità amica, visibile interamente entro 18 pollici, fino alla tua prossima fase degli eroi, tira un dado ogni volta che una ferita viene inflitta da un'unità nemica, con arma da mischia e non negata. Con 4 o più, l'unità attaccante subisce una ferita mortale, notevole, per proteggere un nostro eroe, o un'unità magari importante, o un'unità che sapremo che verrà bersagliata, sicuramente nella fase di combattimento. Divertentissimo su 40 flagellanti, che ogni volta che uno muore, uno può fare una ferita mortale al 4+, per la ferita che gli viene inflitta, due aumenta la possibilità di far fuggire l'unità stessa, e quindi di far ferite anche con la fuga. Scudo di cristallo viene lanciato al 5, se ha successo, aggiungi uno al risultato del tratto sintonizzazione arcana, per le unità Hallowart amiche, interamente entro 12 pollici. Carino questo, ci può stare, ma anche qui lo vedo bene da un mago su Bellwing Vortex, per esempio. Armi infuocate, viene lanciato al 6, scegli un'unità amiche, interamente entro 18 pollici e visibile. Aggiungi uno ai tiri per ferire delle armi di quell'unità, fino alla tua prossima fase degli eroi. Un ottimo bonus, ci sta sempre, magari in sinergia con il Celestian Urricanum, che dà più uno al tiro per colpire dei modelli entro 10. Buono. Che dire, oltre al fatto che è estremamente facile lanciare tutti questi incantesimi, col fatto che tendenzialmente ci bastano tre maghi, ognuno ne lancia due, ne conoscono due, siamo a posto, ma oltretutto hanno valori di lancio bassissimi. Quindi vedo 6-5, il più alto è 6, il più difficile da lanciare è 6. Col fatto che ci diamo dei bonus, che vanno da 1 a 6, è praticamente certo che riusciremo a lanciarli. Tutti, o quasi tutti, 5 su 6 li lanceremo tendenzialmente, e a meno che non ci troviamo appunto davanti uno, con dei bonus per la dissipazione, stiamo tranquilli. Il battaglio di Hallowart è molto pulito, semplicissimo, si chiama Seguito del Fuoco Bianco, include da 3 a 6 maghi eroi. Fine. Aggiungi 1 al lancio e dissipazione di incantesimi dei maghi di questo battaglion, finché si trovano entro 6 pollici da un altro mago dello stesso battaglion, come se non si fosse capito che ci piace lanciare incantesimi, vogliamo proprio essere certi al 100% di farcela. Visto che questo battaglion è estremamente generico, ci lascia tantissima libertà, diamo un'occhiata a qualche Warscroll, dei maghi che troviamo nel Battletome allora. Battle Mage. Per 90 punti, tutto quello che vi aspettereste da un classico maghetto a piedi in questo gioco. 5 ferite, salva al 6, e muove di 5 pollici. Attacco in mischia, risibile. La cosa meravigliosa è che quando lo scegliete dovete scegliere il suo reame di appartenenza, che non deve essere necessariamente quello della vostra armata. Ad esempio potete giocare a un'armata di Hallowert di Akshi con un Battlemage che viene da Ulgu. A seconda del reame di appartenenza, il mago conoscerà un incantesimo diverso. Vi leggo gli esempi più interessanti. Se viene da Ulgu, appunto, conoscerà Miasma Mistificatore. Si lancia al 4, scegli un'unità nemica visibile entro 18 pollici. Quell'unità non può correre. Inoltre, sottrai 2 dai suoi tiri per caricare, fino alla tua prossima fase degli eroi. Trasmutazione in piombo. Se viene da Chamon, si lancia al 7, scegli un'unità nemica visibile entro 18 pollici, dimezza la sua caratteristica a movimento. Inoltre, se ha una caratteristica save di 2, 3 o 4, puoi ritirare i tiri per colpire pari a 1 degli attacchi che bersagliano quest'unità. Già solo questi due incantesimi in combo bloccano un'unità nemica praticamente sul posto. Quindi, come vedete, la scelta è enorme, perché ci sono 8 incantesimi diversi e si possono creare sinergie notevoli. Battle Mage su grifone a due teste, 300 punti, 13 ferite, movimento di 15 pollici, salva il 5 più. Questo è un mago che viene da Gur, di fatti aggiunge 1 al lancio di incantesimi se si combatte NRA di Gur. Inoltre conosce l'incantesimo base, che è forma feroce, si lancia con 5, un'unità amica visibile entro 12 pollici, riceve più 2 alla corsa e alla carica. Conosce anche Lancia D'Ambra, viene lanciato al 7, traccia una linea dal mago a un punto entro 18 pollici sul campo, tira un dado per ogni unità attraversate dalla linea, con 2 o più quell'unità subisce di 3 ferite mortali. Personalmente penso sia un po' troppo costoso per quello che è e quello che fa. Luminarch di Aish, il carrozzone della magia. 11 ferite, salva il 4 più, può essere dotato di mago, in questo caso diventa eroe, di fatti se notate ha due stringhe di keyword a seconda di che scelta fate. Se prendete il mago, sarà un Battle Mage di Aish, e conoscerà l'incantesimo protezione di Fa, che dà meno 1 al tiro per colpire agli attacchi che bersaglia in unità amica, interamente entro 18 pollici, che non fa schifo per niente, se combinato magari con un altro incantesimo da meno 1 al tiro per colpire, o le Gemind di Ulguish. Conosce anche l'incantesimo Burning Gates, che fa di 3 ferite mortali a un'unità nemica entro 18 pollici, raddoppia il risultato se l'unità ha 10 o più modelli, trepica il risultato se l'unità ha 20 o più modelli. Riceve più 1 a lanciare incantesimi se la battaglia si svolge su Aish, ha una serie di abilità molto interessanti, questo a prescindere se gli date il mago o meno. Aura di protezione, tira un dado ogni volta che assegni una ferita o ferita mortale a un modello con keyword Cities of Sigmar entro la gittata, che varia a seconda del numero di ferite. Con 6 o più la ferita viene negata. Un film no pain che parte da 10 pollici, va sui modelli però, quindi dovete stare attenti a misurare la distanza e a decidere da che modelli partire quando assegnate la ferite a un'unità. Aggiunge 1 ai tiri per dissipare dei maghi con keyword Collegiate Arcane interamente entro 12 pollici da lui, ha un attacco a distanza che si chiama Raggio di Luce Rovente, scegli un punto sul campo entro la gittata, che è di 30 pollici comunque, e tira un dado per ogni unità nemica o amica attraversata da una linea che va dal punto alla base del modello. Se il risultato è uguale o superiore a quello indicato nella tabella dei danni, l'unità subisce di 3 ferite mortali. Celestian Unricanum, altro carrozzone, altro regalo, sempre 11 ferite, salva sempre al 4, sempre possibilità di essere dotato di mago, che però stavolta viene da Azir, e avrà un bonus più 1 a lanciare incantesimi se la battaglia si svolge su Azir. Ad oggi ancora non è presente un sistema di regole che permetta di intavolare una partita su Azir, quindi per il momento è inutile, ma ci dà un'idea di quello che vorranno fare con le prossime uscite e sviluppi della storia. Abbiamo il più 1 stavolta a lanciare incantesimi dei maghi Collegiate Arcane interamente entro 12 pollici, quindi ad avere entrambi si ha un più 1 a lanciare, più 1 a dissipare per i maghi Collegiate Arcane. Ha un'aura che dà più 1 ai tiri per colpire, ha i modelli Cities of Sigmar, ancora una volta, che si trovano entro l'aura che parte sempre da 10 e man mano degrada con l'aumentare delle ferite subite. Influisce sia sui tiri per colpire in mischia che a distanza, quindi può essere una buona tattica tenerlo indietro a presidiare un obiettivo circondato da unità da tiro. Un attacco agitato a 18 pollici che fa lanciare un numero di dadi indicato in tabella contro un'unità nemica e per ogni risultato di 2 o più l'unità subisce di 3 ferite mortali. Attenzione, questo attacco permette di cecchinare eroi avversari da 6 ferite in relativa sicurezza dato che non subisce il malus del Lookout Sir. Il mago, se la mettiamo, conosce l'incantesimo di Azir che è identico al fuoco selvaggio della tabella di Halloward che abbiamo vista. E cometa di Casandora, valore di lancio di 6, scegli un'unità nemica visibile entro 18 pollici, tira 2 di 6. Se il risultato è inferiore, uguale al valore movimento dell'unità, questa subisce di 3 ferite mortali. Se è superiore, subisce di 6 ferite mortali. Per completare il profilo di sniper di eroi appiedati, questo incantesimo è perfetto. Con quanto riportato, cerchiamo di tirar fuori una lista bella fastidiosa. Anzitutto prendiamo il Battalion con Celestia Unricanum, Luminarca, due Battle Mage e una Sorceress, di cui tra poco vedremo la Warscall. Rendiamo l'Uricanum generale, col tratto per fare ignorare il test di shock alle unità interamente 18 pollici e il libro per conoscere tutti gli incantesimi di fazione e circondiamolo con unità da tiro. Io ho messo 30 handgunners e 20 crossbowmen per colpire unità più lontane, ma potete mettere tranquillamente 50 handgunners se preferite il rend. Poi, due unità da 20 free guild guard da armare con lance o spada e scudo, a seconda se volete più protezione o fare più danno alle unità che caricano, sei incantesimi persistenti, abbiamo il Berwyn Vortex che aumenta la gittata di un mago a piedi di 6 pollici e permette di lanciare un incantesimo addizionale, Soul Snare Shackles e Prismatic Palisade per limitare il movimento di unità non volante o fare da barriera per le proprie unità, volendo, le Gemines che dibuffano pesantemente due unità e le Spade per del danno becero. Con i punti rimanenti prendiamo la Suffocating Gravitate che occupa spazio e funge da ulteriore barriera e può concedere anche copertura. Ricordo che tutti questi incantesimi sono sempre considerati potenziati, a prescindere da dove si svolge la battaglia, quindi maggiore gittata, maggiori malus, maggiore probabilità di danno e così via. L'idea di questa armata è di limitare i movimenti dell'avversario il più possibile, bloccandolo lì dov'è per bersagliarlo con attacchi a distanza e ferite mortali. I due Battle Mage vengono da Chamon e da Urku e due incantesimi, insieme sulla stessa unità, ne dimezzano il movimento, gli impediscono di correre e sottraggono due al risultato della carica. La Sorceress ha un incantesimo che dà meno uno a colpire un'unità nemica. Il Celestia Murricanon dà più uno a colpire di base ai modelli entro 10 pollici, con l'incantesimo armi infuocate, i 30 Handgunners attorno a lui andranno a colpire al 3 e ferire al 2 con meno uno di rend. E anche comunque i Crossbowmen non farebbe schifo. Se preferite potete prendere o un'arma d'assedio o la Celestar Ballistar degli Storkast e potenziarla allo stesso modo. Questi sono bonus che piacciono a tutti, anche un'unità da mischia ne godrà. Il Luminarca invece avrà il compito di usare l'abilità di comando degli Hallowarth, quindi ricevere ferite mortali cercando di negarle alla bisogna per poi curarsi subito dopo con l'incantesimo Zero Wounds che abbiamo visto e dovrà posizionarsi in modo da dare questo bonus a più maghi possibile. Sicuramente ingittata dei due maghi e la Sorceress a piedi. Poi, comunque, se non vi piace giocare con così tanti Handless Spell, preferite magari più sicurezza, potete sostituirli benissimo con unità da corpo a corpo o altri maghi ancora, se volete esagerare. Abbiamo appena iniziato a scalfire la superficie di questo libro. Vi faccio un esempio stupidissimo per farvi capire un attimo la potenzialità che abbiamo nelle nostre mani. Questa stessa lista potremmo giocarla ovviamente con risultati deludenti, ma con Ammeral. È una possibilità che non faremo mai perché non sono le unità adatte, però è una scelta che teoricamente potremmo fare. Questo per farvi capire il grado di libertà che abbiamo con questo Battletone. Passiamo ora ad Anvilgard, anche per ampliare la nostra scelta di unità che finora abbiamo visto un po' di Free Guild e un po' di Maghi. Anvilgard è una città portuale di Akshi, pertanto se si sceglie un Reame deve essere questo, di nuovo Akshi. Tra l'altro bellissimo il titolo di questa limitazione che si chiama Sulle Rive del Mare Rovente, molto romantica. Affari Illegali Quando giochi un'armata di Amvilgard puoi scegliere uno dei seguenti Affari Illegali. Un eroe addizionale di Amvilgard può avere un artefatto di potere. Un mostro addizionale tra Dragone, Caribdis e Hydra può avere un tratto della tabella Drake Blood Course. Ricevi di tre punti comando addizionali. Questo ovviamente cambia a seconda di che tipo di armata state costruendo. Drake Blood Courses ci spiega ora che cosa sono. Sono tratti appunto per un modello con keyword Dragon, Caribdis o War Hydra. Se ne può scegliere uno più uno per battaglio nell'armata più un altro eventualmente se scegliete l'affare illegale legato a questo. Sostanzialmente sono dei tratti per cavalcatura non più di un tratto per unità e non si può dare più volte lo stesso tratto. Abilità di comando usa questa abilità di comando nella fase di Shock. Scegli un'unità di Ambilguard interamente entro 12 pollici da un eroe di Ambilguard un modello di quell'unità viene eliminato ma non hai bisogno di effettuare i test di Shock per le unità di Ambilguard interamente entro 18 pollici da quell'unità. Molto carino perché si può usare su un'unità molto grande con modelli da una ferita all'uno di conseguenza avere un minimo sacrificio per avere un'area d'effetto molto estesa. Passiamo ai tratti del generale signore del crimine scegli due affari legali anziché uno questo dipende che cosa state costruendo con cosa state giocando sempre cacciatore di mostri aggiungi uno ai tiri per colpire e per ferire degli attacchi del generale che bersagliano un mostro molto situazionale e oltretutto non si applica come sempre agli attacchi della cavalcatura in caso l'eroe ne abbia uno quindi o scegliamo un eroe che sia di suo molto forte in mischia se no non non è molto appetibile stregone sotto copertura se questo generale è un mago conosce tutti gli incantesimi di ambilgard altrimenti conosce un solo incantesimo e può tentare di lanciarlo nella tua fase degli eroi attenzione non rende anche questo il mago generale quindi non può cercare di dissipare incantesimi avversari e non gode di eventuali bonus dati ai wizard artefatti mantello scaglie di drago un filno pain al 5 più sempre molto buono quando subisci una ferita o ferita mortale tira un dado con un 5 più ignora quella ferita o ferita mortale per il portatore lama avvelenata scegli un'arma da mischia del portatore se il tiro per colpire non modificato di un attacco con quell'arma e 6 infliccia una ferita mortale al bersaglio oltre al normale danno carino anche qui bisogna scegliere però un eroe che abbia molti attacchi per non sprecarlo o renderlo inutile un censiere asfissiante alla fine della fase di combattimento tira un dado per ogni unità nemica entro 3 pollici dal portatore con 4 o più quell'unità subisce di 3 ferite mortali anche questo solo per eroi grossi in mischia che abbiano possibilità di arrivare alla fine di una fase di combattimento con abbastanza sicurezza tra le due forse è meglio la lama avvelenata però il migliore di questi top è il mantello sicuramente vediamo le drake blood corses sangue acido tira un dado ogni volta che assegni una ferita inflitta da un'arma da mischia a questo modello con 4 o più l'unità attaccante subisce una ferita mortale ossa sporgenti dopo che questo modello termina un movimento di carica scegli un'unità nemica entro un pollice e tira un dado con 2 o più l'unità subisce di 3 ferite mortali carino se vogliamo appunto avere un mostro che vada a caricare magari le unità meno meno grosse dell'avversario per svoltirle e per metterle in difficoltà sguardo terrorizzante sottrai 2 dalla caratteristica coraggio delle unità nemiche entro 12 pollici da questo modello per ora le migliori mi sembrano la prima e l'ultima ma aspettiamo di vedere le world scroll dei mostri prima di dare un giudizio definitivo gli incantesimi assorbi forza viene lanciato con un valore di 6 scegli un'unità nemica visibile entro 18 pollici sottrai uno dai tiri per colpire di quell'unità fino alla tua prossima fase degli eroi buono ci piace sempre questo malus è sempre un evergreen pugnali d'ombra viene lanciato con 7 scegli un'unità nemica visibile entro 9 pollici quell'unità subisce di 6 mortali secco così forse troppa poca gittata spruzzo esplosivo lancio di 8 scegli un'unità nemica visibile entro 6 pollici dal lanciatore fino alla tua prossima fase degli eroi quell'unità avrà una caratteristica save di trattino di nulla cioè questo è grossissimo peccato per la gittata che si può ovviare con un bel bel wind vortex o magari anche gli umbrals per il portal meglio forse quindi teoricamente un mago potrebbe lanciarlo in tutta sicurezza anche con questo sistema dopo questo incantesimo anche gli attacchi a rend zero dei crossbowman per esempio diventano estremamente fatali notevole notevole per sbarazzarsi in fretta di un'unità di cui abbiamo paura magari molto carina da lanciare sugli ossi arcbone reaper così alla luce di questi tre incantesimi il tratto migliore per il generale è quello che permette di conoscerli tutti e tre sicuramente il battalion per Anvilgarde è molto specifico si chiama chairwind beast hunters comprende un blackheart fleet master che è un eroe pirata tre unità di corsari da uno a tre unità di scourge runner chariots e da zero e uno caribdis molto estremamente tematico estremamente specifico giustamente città portuale di intrighi e traffici di ogni tipo cosa c'è di più adatto dei pirati ci sta peccato che l'abilità non sia altrettanto simpatica semplicemente più uno e tiri per ferire per tutti gli attacchi delle unità del battalion che bersagliano un monster anche qui è estremamente situazionale se non mi ritrovo contro un esercito con molti mostri non ve ne faccio nulla buono genericamente per ridurre il numero di drop e avere un artefatto in più se mi piace giocare questo tipo di unità ma altrimenti non me ne faccio molto però diamoci un'occhiata a queste world scroll più da vicino e vediamo che tipo di lista si può tirar fuori black arc fleet master 60 punti 5 ferite quindi da abbinare a un seguito e a un consigliere se lo vogliamo come generale salva il 4 3 gli attacchi a distanza e muove di 6 pollici con 7 di coraggio ha un'abilità di comando da usare all'inizio della fase di combattimento aggiunge 1 alla caratteristica attacco delle armi di un'unità con la keyword scourge privateers interamente entro 12 pollici dal modello non è male questa forse raggio un po' corto considerando che si tratta di un eroe con scarso movimento black hair corsair la truppaglia 80 punti per 10 modelli 70 punti se prendiamo un'unità da 40 modelli linee di battaglia se il pirata eroe che abbiamo visto è generale una ferita salvano al 5 4 gli attacchi a distanza muovono di 6 pollici hanno coraggio 6 hanno un'arma gittata di 9 pollici con due attacchi al 5 al 4 senza rendo un danno o un'arma da mischia con un attacco al 4 al 4 senza rendo un danno in ogni caso hanno un altro attacco in mischia al 4 al 5 senza rendo un danno lo standardiere dà più 1 al coraggio e il musico aggiunge 1 alla corsa e alla carica se l'unità ha 15 o più modelli aggiungiamo 1 ai tiri per colpire che porta l'unità da scarsa a mediocre attenzione perché se li armiamo con due armi da mischia e usiamo l'abilità di comando del fleet master abbiamo un'unità da 4 attacchi a modello scourge runner chariots 60 punti per un modello 50 se prendiamo un'unità da 3 modelli altra linea di battaglia se il pirata è generale vabbè che nelle cities of sigmar sono linee di battaglia anche i sassi quindi fa poco testo 6 ferite salva al 5 muove di 12 pollici attenzione movimento molto alto ognuno ha 2 attacchi a distanza 18 pollici al 3 al 3 meno 1 di 3 danni e se il tiro per colpire di quest'arma è 6 non modificato infligge di 3 ferite mortali e la sequenza d'attacco termina altri 4 attacchi agittata 16 pollici 2 attacchi in mischia 4 morsi dei cavalli un paio di unità da 3 modelli di questi non sarebbero male per fare qualche ferita mortale a distanza ogni caso hanno veramente tanti attacchi e un modello su 3 aggiunge 1 i tiri per colpire con gli attacchi a distanza quindi comincia a diventare valido caribdis 170 punti uno dei 3 colossi a cui è possibile dare un tratto di anvilguard sono 12 ferite che salvano al 4 e un movimento che parte da 7 pollici abbastanza lentino c'è di buono che può essere schermato senza problemi dai corsari ha molti attacchi di cui il migliore è il primo che colpisce al 4 ferisce al 3 meno 1 di rend 2 danni come abiliterà sottrae 1 dalla bravery delle unità nemiche entro 12 pollici non si cumula tra caribis ma può essere portato un ricco meno 3 dal tratto del drakeblood curse sana di 3 ferite alla fine della fase di combattimento se ha ucciso dei modelli nemici con qualunque dei suoi attacchi si possono tirare 3 di 6 per la carica e scartare il dado più basso ma in caso si ottenga un triplo come risultato l'unità subisce una ferita mortale queste 4 unità che abbiamo visto sono contenute nello star collecting gangvigard guarda caso quindi se volete improntare la vostra armata su di loro siete molto avvantaggiati dal pacchetto va detto che il caribdis può essere assemblato anche come war hydra sempre a 170 punti fa parte però degli order serpentis non più degli scorge privateers mantiene le 12 ferite che salvano al 4 ed è leggermente più veloce parte da 8 pollici mantiene l'abilità di carica del caribdis e sana di 3 ferite all'inizio della fase degli eroi perde 6 attacchi in mischia rispetto al caribdis ma ne guadagna 1 a distanza 9 pollici che parte da 6 attacchi al 3 al 3 meno 1 un danno nelle retrovie forse è meglio tenere questo al posto del caribdis con il fatto che si cura a prescindere nella fase degli eroi vedo bene il tratto che ogni ferita inferta in mischia al 4 più torna all'attaccante come mortale oppure dargli sempre meno 2 alla breverie che rimane di tutto rispetto anche senza un ulteriore meno 1 continuiamo sull'onda degli order serpentis con un'altra opzione di costruzione dello scorchrunner stavolta il drake spawn chariots una serie di attacchi abbastanza dimenticabili ma un save più alto rispetto ai pirati e quando un'unità completa un movimento di carica ogni modello può fare di 3 ferite mortali è un'unità entro un pollice da lui un'unità da 3 modelli costa 210 punti costosine queste di 3 mortali meglio i drake spawn knight cavalieri su dinosauri sostanzialmente sempre dell'order serpentis 2 ferite l'uno che salvano al 3 e muovono di 10 pollici brevere i 7 8 col portastendardo 150 punti per 5 modelli meritati anche solo per la resistenza e il movimento peccato abbiano solo un attacco a testa che diventa veramente considerabile solo in carica va detto che i lucertoloni hanno due attacchi l'uno al 3 al 4 quindi un pochino compensano andiamo a vedere se il loro eroe può migliorarli un po' dreadlord su dragonero 300 punti da fuck ha comunque la keyword dragon quindi può avere uno dei tratti di ambilguard per il drake bloodcorses ha una serie di opzioni d'arma le migliori sono scudo che alzano il suo save a 3 più e lancia che in carica è particolarmente pericolosa questo modello gode a stare in corpo a corpo per il soffio del drago che fa ferite a seconda di quanti modelli di un'unità nemica versaglio sono ingittata a 6 pollici quindi può beneficiare particolarmente dell'incensiere asfissiante l'abilità di comando è ottima e aggiunge 1 al tiro per ferire nella fase di combattimento a tutte le unità order serpentis interamente entro 18 pollici quindi sì con questa effettivamente i morsi dei lucertoloni dei cavalieri di prima diventano più efficaci non è finita non è finita vi avevo promesso un'occhiata alla sorceress presente nella lista di Halloward ed eccovi la sorceress ha un incantesimo che viene lanciato al 7 fa di 3 ferite mortali e un'unità nemica visibile a 18 pollici e la stessa unità subisce meno 1 al tiro per colpire inoltre può eliminare un modello con keyword darkling coven amico entro 3 pollici e aggiungere 2 al lancio di tutti i suoi incantesimi per quella fase degli eroi dico di tutti perché può essere messa su un bay wing vortex o lanciarne uno in più se in un esercito di Halloward nonostante appunto di base ne possa lanciare solo uno la sua abilità di comando permette di correre e caricare o correre e sparare a un'unità di darkling covens come vedete le possibilità sono veramente illimitate oltre alle sinergie all'interno dell'armata ci sono anche le sinergie tra le unità con la stessa keyword la sorceress può essere messa su un black dragon anche lei rimane la sua abilità di uccidere un modello per aumentare il lancio di incantesimi cambia l'incantesimo che entra al 6 scelgo un'unità nemica entro 18 pollici visibili e tiro 9 dadi ogni risultato inferiore alla caratteristica save dell'unità genera una ferita mortale particolarmente forte contro un'unità con save molto alto garantisce quasi 9 mortali secche mantiene l'abilità di comando che aveva a piedi ma ne prende una seconda mi permette di ritirare i tiri per ferire pari a 1 di un'unità darkling covens interamente entro 12 pollici nella fase di combattimento nonostante sia sempre un black dragon questo difficilmente vorremmo tenerlo in mischia o farlo caricare inoltre è un mago da un incantesimo solo almeno in ambilgard e non potrà beneficiare del bailwind vortex decisamente meglio la sorceress a piedi da questo punto di vista vediamo qualche unità darkling covens guardie nere salvano al 4 muovono di 6 pollici breveri 8 9 con standard ottimi attacchi al 3 al 2 entro 12 da una sorceress di qualunque tipo al 3 meno 1 di rend un danno truppa abbastanza solida ma molto costosa 140 punti per 10 modelli executioners praticamente uguali alle guardie nere con 7 di bravery perdono il bonus al tiro per colpire solo un pollice digittata ma guadagnano una ferita mortale al 6 non modificato per colpire 130 punti tra le due forse preferisco questi ultimi anche solo per la possibilità di farle mortali blickswords caliamo ulteriormente di qualità complessiva ma non di save che resta solido un attacco solo senza rend che genera due colpi al 6 non modificato 90 punti per 10 modelli 80 punti in un'unità da 40 modelli cominciano a essere buoni da sacrificare per la sorceress e l'abilità di comando di ambilgard dread spear blicksword con lancia sostanzialmente i tiri per colpire con 6 vanno risolti con rend meno 1 e gittata di 2 pollici anziché 1 tra i due assolutamente meglio questi dark shard ho un po' di attacchi agittata per i coven salvano al 5 il resto rimane simile alle blicksword due attacchi a testa 16 pollici al 4 al 4 senza rend un danno più 1 per colpire se abbiamo 10 modelli nell'unità si muovono dei 6 pollici ma la sorceress può farli correre e sparare con l'abilità di comando quindi un'unità da 30 o 40 può diventare molto interessante ricordo che un incantesimo di ambilgard trasforma in burro il save di un'unità con gli spell portal e 2 punti comando possiamo obliterare un'unità particolarmente fastidiosa fino a 29 pollici digittata dai dark shards partiamo allora proprio da una lista che abbia questo proposito come traffici leciti prendiamo i di 3 punti comando in più che ce ne mangeremo già 2 dall'inizio iniziamo con le 2 sorceress appunto da tenere vicine una sarà il consigliere dell'altra e il loro seguito saranno le 20 blicksword che useremo anche come sacriccio per avere più 2 al tiro per i loro incantesimi la sorceress consigliere lancerà lo spell portal un modellino da mettere vicino all'altra sorceress e l'altra ovunque sul campo grazie al potenziamento degli incantesimi persistenti delle cities of sigma l'altra prima lancerà il bellwin vortex per lanciare due incantesimi nelle successive fasi degli eroi e poi vitriolic spray per togliere il save a un'unità particolarmente fastidiosa come abbiamo visto ovunque sul campo quindi farà correre e sparare le 30 dark shards che bersaglieranno l'unità a cui abbiamo tolto il save di fatto detronizzandola il resto dell'armata è da corpo a corpo pesante con tutte unità estremamente resistenti per essere elfi abbiamo il dreadlord su black dragon da mandare in mischia possiamo dargli l'incensiere per aumentare i suoi danni e le sue ferite mortali ravvicinate o il mantello per farlo resistere più a lungo la war hydra e il rex ponchariot se li ho messi per godere un po' dell'abilità di comando del dreadlord visto che influenza tutte le unità order draconis interamente entro 18 pollici ma non sono comunque male perché il carretto posso stare su un obiettivo o impedire un'imboscata e la war hydra è una distrazione molto grande quest'altro esercito invece molto di flavor non so quanto sia efficace però ci proviamo praticamente tutti i scorch privaters e il battle mage abbiamo due unità da 40 e una da 20 pirati quest'ultima sarà il nostro seguito 4 arc fleet master per ovviare la corta gittata della sua abilità di comando saranno infatti sparpagliati dietro alle unità scorch privaters il generale conoscerà vitriolic spray e potrà lanciarlo grazie al tratto apposito senza il bonus della sorceress non so quanto possa essere efficace ma ci proviamo battle mage per lanciare lo spell portal ed abbinare ancora una volta vitriolic spray due unità da tre carretti per le mortali e qualche solido attacco a distanza e due caribdis che fanno la loro figura ancora una volta ho scelto come traffico illecito quello che ci dà di tre punti comando in più dato che già il battalion ci concederà un oggetto e un tratto drakeblood course aggiuntivi queste erano le regole di alleanza per le cities of sigmar per quanto riguarda le città di Halloward e Anvilgard a me personalmente piace moltissimo Halloward anche se forse spinge con un po' troppa insistenza sulla magia e non lascia molte altre alternative di strategie tuttavia la scelta di incantesimi e incantesimi persistenti dà comunque una personalizzazione estremamente alta e ampia in ogni caso scrivetemi nei commenti voi che cosa ne pensate e che città preferite tra quelle che abbiamo visto finora e che città vorreste vedere nel prossimo video tra quelle che mancano ovviamente noi ci vediamo nei prossimi giorni per continuare la nostra avventura nelle città di Sigmar un saluto dal vostro Araldo dei Reami Mortali e che città